Andra Iuliana Burlacu, dopo il titolo di ieri nella pistola 10 metri donne, oggi hai vinto anche il titolo nella pistola sportiva? Sì, ho vinto anche oggi e non me l'aspettavo anche questo, ci speravo e alla fine è arrivato anche questo titolo, sono contenta. Quindi hai chiuso in bellezza la stagione come Juniors, come è andata la gara di questa mattina? La gara a differenza di ieri è iniziata bene, è divisa in due parti, Mirato e 7-3, il Mirato è andato molto bene, il 7-3 che è sempre il mio tallone d'Achille è andato male in effetti, però alla fine sono riuscita a qualificarmi prima per la finale e anche in finale mi sono mantenuta alla stessa posizione. Senti, che differenza c'è fra la pistola ad aria compressa e la pistola sportiva? Beh, c'è una grande differenza soprattutto per quanto riguarda il 7-3, il Mirato è simile all'area compressa, il bersaglio è in proporzione ai 10-25 metri, mentre invece il 7-3 è particolare, c'è una tecnica tutta diversa ed è quello il difficile e il bello poi anche della pistola sportiva. Ecco, spieghiamo un attimo che cos'è questo 7-3. Beh, il 7-3 si inizia che il bersaglio sta chiuso per 7 secondi, poi dopo si apre per 3 secondi e in quei 3 secondi bisogna sparare il colpo e c'è soltanto quell'occasione lì per spararlo e così si ripete per 5 volte, infatti una serie e 5 colpi. Senti, Andra, c'è una tiratrice alla quale tu ti ispiri? Ebbè, la mia tiratrice dalla quale mi ispiro è Maura Genovesi, che io l'amiro tantissimo. C'è qualcuno che vuole ringraziare? Voglio ringraziare come sempre il mio allenatore, Grandi Moreno, mio padre e anche il mio ragazzo Alberto Bosino, che è anche l'allenatore di carabina della Nazionale, che mi ha aiutato tantissimo a crescere in questi anni. Bene, grazie.